A cinque anni dalla tragedia dell'archivio di Stato, questa mattina è ripreso il processo per le morti di Piero Bruni e Filippo Bagni, i due impiegati uccisi da una fuoriuscita di gas argon in colore e in odore, ma che rese l'atmosfera priva di ossigeno. Conclusa l'audizione dei testi della pubblica accusa, rappresentata in aula dalla PM, Laura Taddei è stato il turno dell'esame degli imputati. Primi a prendere parola i funzionari dell'Igeam, società romana a cui erano affidate le verifiche di sicurezza e i corsi di formazione. Non hanno invece parlato l'allora direttore Claudio Saviotti e il suo predecessore Antonella D'Agostino. Per scelta processuale hanno preferito prendere questa strada. Saviotti aveva già presentato una memoria al gruppo in udienza preliminare, sostenendo che alcune specifiche responsabilità avrebbero dovuto essere addebitate al Ministero, facendo così venire meno la condizione di datore di lavoro. Serve a dimostrare che c'è una gerarchia superiore che doveva avere il controllo diretto della situazione. Controllo che si esplicava nella non autonomia da parte dell'archivio in tema di spesa e quindi ogni spesa, piccola, grande che sia, doveva essere richiesta e autorizzata da parte del Ministero. Quindi questo vuol dire che il datore di lavoro non poteva essere il direttore, il quale era un semplice funzionario. Sono in tutto 11 le persone sedute sul banco degli imputati con l'accusa di omicidio colposo plurimo. I consulenti della Procura nelle scorse udienze avevano sottolineato quelle che ritengono essere state le carenze dell'impianto antincendio che avrebbero causato il dramma, come la mancanza di una conduttura che portasse il gas di scarico all'esterno e il montaggio errato della valvola di rottura.